Una donna sta chiedendo qualcosa ad un commesso in una libreria. Quale libro voleva vedere la donna? Mi scusi, vorrei dare un'occhiata ad un libro su quello scaffale. Quale libro vorrebbe? Il libro sulle macchine. Aspetti un attimo, per favore. Questo? Esatto! Eccolo! Quale libro voleva vedere la donna? Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time! See you next time! See you next time! See you next time! Bye! Bye!